Compagni di gelati, come avere tanti ghiaccioli per finire questo evento? Lo spiego nel video di oggi, è finalmente iniziato e ce ne possiamo anche accorgere dal fatto che in alto a sinistra gli inviti che mi stanno arrivando sono veramente numerosi, mi stanno invitando Anna, mi sta invitando Marco, insomma un sacco di gente vuole collaborare con me per finire compagni di gelati assieme. Chi sono io per rifiutare? Assolutamente nessuno. Prima però voglio fare un piccolo escursus iniziale riguardo questi eventi perché dopo il mio video stop non ne posso più ecco che finalmente si sono mossi, hanno fatto uscire subito un mini game big e un bellissimo compagni di gelati che secondo me ci potrebbe far comodo per chi magari vuole racimolare qualche dadino. Mi raccomando aspetto la vostra risposta qua sotto, se c'è qualcuno che vuole per qualche motivo collaborare con me per questo evento vi aspetto qua sotto. Direi che non ci perdiamo in altre chiacchiere, l'ultima cosa che vi chiedo è per coloro che sono proprio interessati tanto a Monopoly Go c'è un tasto semplice da schiacciare, il tasto iscriviti, attiva la campanella e lascia un bel mi piace. Questo è il diciamo metodo più basilare ma anche più efficace per supportarmi in questo percorso bello grosso che si chiama Monopoly Go. Mi ricordo inoltre che mi trovate su Twitch, su Twitch mi trovate come invaportrattino basso anche su TikTok, insomma ci sono tante piattaforme nelle quali ormai io viaggio e opero sa soltanto voi decidere quale delle seguenti è la più... è la più aggradevole per voi cioè magari c'è qualche... qualche piattaforma un po' più carina, altre un po' peggiori insomma potete scegliere, potete fare un po' come volete, come si suol dire. Io direi che non ci perdiamo in altre chiacchiere, andiamo subito ad acquistare, a fare un bel po' di roba che non voglio letteralmente star qua ad impazzire. Dentro con 53, sbango, ok, questo non lo volevo vedere, mi è capitato subito diciamo l'osso duro l'osso anche un po' un po' marcio, non mi fa impazzire il fatto che mi sia già uscita la... la seguente situazione. Ma non importa perché andiamo avanti, andiamo con 8 e vediamo subito cosa riusciamo a fare. 6-3-9, perfectus, andiamo avanti, 4, i chisi, 6, ole, 6, altri 6 e stazione per noi. Stazione che ci dà un elmetto, un bellissimo elmetto, bello bello goloso, che ci dice guarda, te stai facendo questo o quell'altro e boom, li tiriamo una stecca di quelle belle pesanti 8 milioni e 6, va bene, va bene, va bene, va bene, ci accontentiamo, ci accontentiamo bene con le due racchette e buona così. Ma iniziamo a parlare dell'evento compagni di gelati perché giustamente qualcuno di voi si sarà fatto qualche domanda, Vapor presenti sempre questi eventi ma poi alla fine non ci dici bene che cosa dobbiamo fare. Attualmente io ho già naturalmente l'evento iniziato, quindi a differenza delle scorse volte nelle quali io l'evento non avevo ancora, diciamo, i dati sotto mano, vi portavo semplicemente delle idee che erano emerse dalle varie pagine news, in particolare oggi abbiamo la base, la base che sono il premio finale, quindi un premio finale ufficiale naturalmente del compagni di gelati che è pari a 5 mila dadi, un pacchetto di adesivi viola che ricordo essere quello con un adesivo minimo 5 stelle e soprattutto un numero di carte pari a 6. A fianco poi abbiamo la pedina, una pedina di questo caso che si chiama camioncino dei gelati, molto molto carina che mi farebbe un sacco piacere prenderla. Schiacciandola al tasto I, inoltre come sapete penso un po' da sempre, ci sono le varie diciture, le varie didascalie che ci dicono in particolare. Invita un partner a giocare all'evento, tira i dadi per raccogliere questi ghiaccioli, io li chiamo, dal tabellone, dagli eventi, bisogna poi girare la ruota con il partner per costruire il tuo gelato, vinci fantastiche ricompense e conquista il tuo primo premio, che ricordo essere un sacco, un sacco, un sacco di roba. Ma parliamo di questi ghiaccioli, come si fanno ad ottenere? Si possono ottenere, primo metodo, quello che è proprio la base standard, è il negozio 1 ogni 8 ore, essendo il giorno composto da 24 ore, potete ottenere, essendo 35 ghiaccioli ogni 8 ore, all'incirca un centinaio di ghiaccioli al giorno, questo perché facendo un 35 per 3 viene un 100 e qualcosa. Questa è la prima base, proprio la più fondamentale che esista. Successivamente la seconda, che è forse quella che a livello di profittevolezza, diciamo di profitte, quella che vi porta di più al vostro munino, ed è l'evento a scorrimento. Io ho l'evento a scorrimento, chiamo l'evento centrale, alcuni lo chiamano l'evento centrale, altri eventi a scorrimento, altri sliding events, io lo chiamo viaggio vacanziero perché si chiama appunto così ed è l'evento che c'è al centro. Ecco che questo qua è l'evento al centro, ci consente attraverso varie soglie, in particolare una ogni tre se non sbaglio, di avere dei ghiaccioli che ti vengono piazzati lì. In questo primo caso, il primo premio sono proprio 100 ghiaccioli. Chiaramente poi i ghiaccioli si possono andare ad ottenere dal gioco stesso, quindi io semplicemente andando a giocare, come avete visto, ho appena ottenuto un ghiacciolo. Questo numero di ghiaccioli che è pari a 1 se utilizzate il per 1, come nel mio caso, è aumentabile chiaramente in base al vostro moltiplicatore, arrivando fino ad un massimo di 100, che è veramente, veramente alto. Continuiamo perché ci sono i tornei. I tornei, chiaramente una volta sbloccati, in questo caso devo ancora entrarci dentro, hanno delle grandi prospettive, soprattutto i posti più alti, hanno diciamo un guadagno quasi assicurato di ghiaccioli. Occhio perché sono cose importanti da ricordarsi, ricordatevi appunto della presenza di ghiaccioli nelle posizioni alte del torneo. Detto questo, altra distruzione per noi, io andrei qua sotto, li tirerei una steccona di quelle belle potenti, con 17 milioni portati a casa, belli dip, belli gasati, e direi di andare avanti. Andiamo avanti con un altro per 1, road 2, completamento di quello. Sarà molto molto duro farlo, ma ci proviamo. Andiamo avanti, bang, 5, proviamo a vedere per 12, ok, 4, sbang, sbang, perfetto, 4 su 5. Siamo arrivati a 7, siamo entrati dentro la stazione, un bel elmetto di color arancione, questo vuol dire distruzione. Chiaramente raga, adesso faremo vedere anche nel dettaglio tutte le varie pagine con tutte le cose che bisogna sapere. Volevo però completare il discorso di come si fanno ad ottenere con le missioni, perché me le sono tenute apposta da parte. Le missioni hanno un premio cumulativo da 60, poi c'è 80, poi c'è 100, quindi in base alla missione che è andata a prendere ci sono in totale indicativamente nel giorno 100 del negozio che si possono ottenere se giocate tutto il giorno, all'incirca un altro 200 che si può andare ad ottenere dalle missioni, quindi siamo già ad un buon 300 giornalieri. Chiaramente poi ci sono tante altre opzioni, ma a livello di guadagno che cosa mi fa dare questa roba qua? Innanzitutto molti non sanno proprio come funziona, è un evento dove funziona tanto schiacciare più, ok schiacciando il più voi potete andare a scegliere le persone che faranno l'evento con voi. Io ragazzi devo dire la verità, seleziono delle persone un po' randomiche, anche perché non so chi mi darà una mano, chi non me la darà, quindi io diciamo che di base schiaccio più e dove mi sento? C'è leggo il nome, ad esempio qua c'è un certo monopola, boom, monopola, mi sta simpatico il nome, lo butto dentro, ad esempio in questo caso c'è Nella, buttiamo dentro anche lei, così iniziamo a fare questo evento. Ogni naturalmente gelato in produzione ha delle caratteristiche, bisogna andare ad utilizzare chiaramente o l'emotico, no scherzo l'emotico non servono a niente, però ha delle ruote, io chiaramente potrei andare a girare col per uno, questo per uno vuol dire io vado ad investirci 20 ghiaccioli ogni volta e questo è il premio che mi dà. I premi sono dadi, sono poi soldi, successivamente c'è il cassettone e poi c'è il primo premio, quindi pian piano si andrà avanti e vi assicuro raga che i premi diventano veramente, veramente interessanti. Ma non è finita qua raga, infatti in esclusiva nazionale abbiamo queste immagini che ci fanno vedere tutti i guadagni che si possono fare da Vacation Voyage, dove ci dice guarda tu puoi fare 100 bigliettini, dadi, soldi, dadi, soldi, pacchettino di colore verde, pacchettino di colore rosa, dadi, soldi, dadi, soldi, mega rapina, insomma questo è Vacation Voyage, per farci capire, ok, l'evento a scorrimento, un evento molto molto importante. Andando poi avanti, chiaramente ci sono anche tante altre situazioni che si possono andare ad analizzare, abbiamo il Monopoly Go News, sapete meglio di me di cosa sto parlando, in questo caso abbiamo oltre l'evento Vacation Voyage proprio Ice Cream Partners, ci dice che al primo livello possiamo ottenere 200 dadi, al secondo livello con altri 6.000 punti possiamo andare a sbloccare il cash, al terzo livello 13.000 punti sono soldi e sono dadi da 200 ai 300, una scatola di cose rosa, poi successivamente una scatola d'oro con il gran scommettitore, il pacchetto di adesivi rosa da 300 a 500 dadi e l'ultimo livello con altri 32.000 punti per un totale di, siamo all'incirca sui 69.000 punti, il premio finale con un sacco di dadi, un sacco di robe, addirittura soldi a profusione e Bonalì. Io spero di essere stato chiaro nel discorso, se fosse così like, iscrizione, attivazione della campanella, commento, vi chiedo gentilmente di cliccare uno di questi due video che sono uno più bello dell'altro, noi ci vediamo domani sempre qua su YouTube alle ore 14 con un nuovo video bomba, ciao belli!